Non so come la pensate voi, cari amici, ma a mio parere per portare la barba, quantomeno per portarla in maniera decente, è assolutamente fondamentale curarla, rifinirla. Quindi una delle operazioni che un barbuto come me, alle quali non può rinunciare, è la rasatura. Infatti molto spesso, ci sono molte puntate, le dedico proprio alla rasatura, però per rifinire la barba occorre precisione, occorre attenzione, perché la barba è fatta di dettagli, un passaggio sbagliato può rovinare completamente la barba. E quindi è importante riuscire a vedere bene i margini, i limiti della nostra barba. Ecco perché in alcuni casi alcuni barbuti preferiscono regolarsi la barba, farsi la barba, radersi, senza l'utilizzo della schiuma, senza l'utilizzo del sapone da barba. Ma come radersi senza schiuma, senza sapone da barba, evitando di tagliarsi, evitando di irritarsi, evitando di strappare il pelo? Ebbene, ci sono diversi sistemi. In questa puntata ne vediamo insieme uno. Bene, cari amici, allora vediamo insieme come poterci fare la barba senza utilizzare la schiuma, senza utilizzare il sapone, in modo tale da poter andare proprio a vedere con precisione dove la lama va a tagliare, che è questa un'operazione quindi particolarmente utile per chi come me porta la barba lunga, e quindi vuole andare a rifinire in maniera molto dettagliata, molto precisa, la propria barba. A ben vedere però sul mercato non ci sono così poi tanti prodotti dedicati, specifici, proprio a questo tipo di rasatura. Esiste uno della cella, una crema appunto per rasatura di grande precisione, che poi magari un giorno ne parleremo. Un altro, ad esempio, è l'olio da barba, l'olio, scusate, per rasatura della Floyd, che è un olio che ho già avuto modo di provare diverse volte, poi per testarne l'efficacia, anche e soprattutto senza schiuma, perché è un prodotto che può essere utilizzato sia come pre-barba, sia come, vedremo in questo caso, come proprio lubrificante per passare la lama senza utilizzare la schiuma. In questo caso, nel caso di oggi, proveremo a radere questa brutta barba di ormai, mi sembra, tre giorni, quindi una barba abbastanza lunga, utilizzeremo soltanto, quindi nessun trattamento particolare. Utilizzeremo questo olio per rasatura della ProRaso e un rasoio di sicurezza Fatib Gold Open Comb, cioè a petto in aperto, armato di astra verdi. Procediamo quindi, come di consueto, al lavaggio, al massaggio del volto con acqua calda. Con il volto ancora bagnato, ci applichiamo questo olio. Ve l'ho fatto vedere prima. È un olio dalla consistenza, in realtà, piuttosto densa, piuttosto viscoso. La profumazione è una profumazione molto gradevole, però è differente da quella del Floyd e del dopo barba, perché è una fragranza sicuramente a base speziata, con alcune note agrumate e ci sono anche dei richiami di miele, direi. A questo punto la nostra pelle è coperta da un sottile velo che consentirà un passaggio più delicato della lama, un passaggio anche più semplice, perché questo velo ha anche una funzione leggermente lubrificante. Procediamo allora alla rasatura. La lama scorre sulla pelle perfettamente. Questa funzione lubrificante consente un passaggio liscio, senza sensazioni di strappo, senza sensazioni fastidiosamente irritanti e ci permette, in assenza appunto della schiuma, di vedere meglio dove andiamo a passare la lama. Per procedere con il contropelo io suggerisco un'altra applicazione di questo olio lubrificante per rasatura che ci consente, perché chiaramente con il primo passaggio la maggior parte di questo velo protettivo è stato rimosso dal rasoio, e quindi ovviamente lo dobbiamo riapplicare. A questo punto un ultimo risciacquo del viso per togliere l'olio in eccesso e la rasatura si può dire completata. Qualche taglietto me lo sono fatto, d'altronde con il Fatip Gold Open Comba io spesso non mi taglio, però soprattutto sommato la rasatura è andata abbastanza bene per i miei standard. a questo punto io applicherei un po', come sempre, di allume di rocca e a questo punto ovviamente non possiamo non concludere se non con una bella spruzzata di Floyd. bene, allora cari amici abbiamo concluso questa rasatura senza schiuma, senza sapone è una rasatura che ovviamente è cibriva un po' di parte del piacere, del rito, della rasatura ma non è comunque una rasatura così asettica e insomma priva di poesia come quella con la bomboletta e il rasolo in multilama è un modo questo per cercare di andare a rifinire in maniera più dettagliata la propria barba quindi utile per chi ha la barba e vuole andare a rifinirla con un po' più di attenzione io normalmente la rifinisco anche e soprattutto la maggior parte delle volte con il sapone perché tanto comunque io riesco abbastanza ormai ho preso le misure però ecco, questo prodotto questo tipo di prodotti ci consente di andare a vedere con più facilità dove andiamo a tagliare bene, con questo è tutto spero che la puntata sia stata di vostro gradimento se qualcuno di voi si regola la barba si aggiusta, si rifinisce la barba con tecniche simili con altre tecniche utilizzando altri prodotti ce lo scriva nei commenti così magari insomma anche noi possiamo approfondire questo argomento bene, grazie ancora e noi, se vi va come sempre ci vediamo nelle prossime puntate ciao, a presto